Zanelli e Celeschi. Dal 1978, movimento terra, costruzione in cemento armato, ristrutturazione e realizzazione di edifici civili e industriali. Può rivolgerti a noi anche per la lavorazione dell'acciaio per strutture in cemento armato, coperture di abitazioni, tetti e solai in legno, ponteggi, bonificamento e trasporto autorizzato di materiale dall'iscarica. Ci trovi a Cervara, in via Cante 1B, Zanelli e Celeschi. Qualità e sicurezza, mattone dopo mattone. Il Lama c'entra la seconda vittoria di fila superando 2-0 la C4 che incassa la seconda sconfitta stagionale, un successo che proietta la formazione di Vicarelli al terzo posto a tre lunghezze dalla vetta. Vicerna, senza il classe 2002 d'Oco infortunato, non schiera il neoacquisto Lori fra i pali e punta sul classe 2004 Cutolo nel 4-2-3-1 che vede l'esordio dal primo minuto in casa Folignate di Quatenga alle spalle dell'ex Valori, con l'altro ex Lanzi da terzino destro. Modulo speculare per Vicarelli che conferma Bartoccini da punta con Bruschi alle spalle, soluzione che anche sette giorni prima a Marsciano si era rivelata vincente. Pronti via e Lanzi salva i suoi anticipando sulla linea Mambrini dopo colpo di testa di Bartoccini. La C4 si vede con la conclusione di Giabbe Cucci alta, dall'altra parte tocca a Petricci cercare senza successo la porta. Prima dell'intervallo si accende Valori che al 38esimo non inquadra lo specchio, mentre due minuti più tardi trova sulla sua strada Sodani che manda tutti all'intervallo sullo 0-0 con un intervento d'applausi. A rientro nella ripresa il Lama trova subito il gol che spiana la strada ai bianconeri, con un destro dalla distanza, violento sì, ma centrale, che apre le mani del classe 2004 Cutolo e porta in vantaggio i padroni di casa. La C4 replica subito con Valori che è già pronto ad esultare sulla stoccata sottoporta, ma c'è ancora un super Sodani a dire no. Vicerna gioca anche le carte Capitole e Francioni, Vicarelli dal canto suo getta nella mischia Bartolucci e il Rama raddoppia al minuto 78 quando Bartoccini incorna di forza la palla del 2-0, che gli vale il quarto centro in campionato, titoli di coda al Polchi-Laurenzi con il pubblico di casa che fa festa. Guido Vicarelli, seconda vittoria di fila, Lama al terzo posto, a meno tre dal primo posto. Otto giorni fa eravamo sotto in treno, quindi non ce lo dobbiamo dimenticare, dobbiamo stare molto concentrati su questa situazione che va assolutamente cavalcata, però non dobbiamo dimenticarci da dove veniamo. Da un momento di difficoltà adesso la squadra gira, evidentemente abbiamo raggiunto una buona condizione e sappiamo quello che vogliamo, quindi faccio i complimenti ai ragazzi perché effettivamente la prestazione c'è stata. Premiata ditta BNB, Bruschi e Bartoccini, a fine gara è partito il coro negli spogliatoi, siamo venuti fin qui per vedere e segnare Bruschi. A volte mi capita durante la settimana di dire la porta, la porta, la porta. Finalmente mi ha dato retta perché bisogna assolutamente cercare il tiro, cercare di mettere palla in area, abbiamo dei giocatori molto bravi in questo, ma nella BNB ci metterei altri BNB perché c'è anche Bartolucci, c'è Bartolini, ce ne sono diversi, quindi secondo me abbiamo vinto da squadra perché se avete visto anche i cambi sono stati di tutto rispetto e anche i ragazzi che sono entrati è andato al massimo. Giacomo Bicerna, c'è un problema di fondo, la C4 continua a giocare senza un portiere? No, ma già, diciamo, continua a giocare con un portiere e oggi ha fatto un errore, un errore grossolano e ovviamente, sicuramente come hai detto te, dal momento che nelle ultime 4-5 partite gli errori del portiere si possono contare, si contano, insomma, magari non c'è stata la reazione che c'era stata nelle ultime partite, nel senso che ci sta, senza che ci nascondiamo, l'ennesimo errore, però gioca con il portiere, la C4, gioca con il portiere con una scelta fatta a inizio stagione. Però è arrivato un portiere forte come Gian Claudio Lori, per i tre under ero obbligati, però una scelta obbligata la tua oggi, oppure tornando indietro faresti anche una scelta diversa? No, tornando indietro non rifarei una scelta diversa, nel senso che probabilmente Lori oggi avrebbe giocato, ma si è fatto male dopo e quindi dovevo un po' stravolgere i dieci in mezzo al campo e su una partita del genere non me la sono sentita, quindi non tornerei indietro. Se poi avessi la bacchetta magica e che con Lori magari non prendiamo il gollo e finiva 0-0 eravamo più contenti. Sicuramente i ragazzi stanno lavorando bene, è logico che quando non raccogli i frutti del lavoro girano le scatole, in un modo o nell'altro, però a me non piace dare le colpe a nessuno, anzi le colpe me le prendo io perché mi piace sempre metterci la faccia, quindi la responsabilità è mia e se ovvio ho già sbagliato il portiere su un gol, la scelta l'ho fatta io, quindi la responsabilità è assolutamente mia e non è di guto. Ecco, questo qua.